Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, devo dare continuità alle notizie inerenti oggi a iRacing come ho parlato ieri c'è questa mega settimana in cui fanno il festeggiamento del 15esimo anno di compleanno e che riconoscono dei bonus e la possibilità di vincere 1000 dollari ai vari iscritti abbonati per saperne di più basta andare sul video che ho pubblicato ieri ed oggi voglio segnalarvi una promozione riservata ai nuovi abbonati 60% di sconto su tutti i piani tariffari ragazzi stiamo parlando di 79 dollari e 60 invece di 199 per 2 anni 44 dollari invece che 110 per un anno e poi 13 dollari invece 33 per 3 mesi e 7 dollari e 80 per un mese invece che 13 60% di sconto è uno sconto interessante e potrebbe dare la possibilità a chi aveva qualche dubbio di questo abbonamento di potersi affacciare a questo mondo iRacing che è molto molto interessante così chi è interessato può assaggiare il prodotto e farne le dovute valutazioni se magari il muro psicologico era proprio questo dell'abbonamento vi ricordo che l'abbonamento vi dà diritto ad avere 20 circuiti e 20 auto più o meno quindi non siete obbligati subito a comprare dei contenuti potrete fare degli acquisti mirati se date continuità alla vostra presenza su iRacing e in base anche alle series che andrete a seguire quindi niente ragazzi io volevo segnalarvi questa offerta che mi sembra molto interessante spero che vi sia stata di gradimento vi invito quindi a lasciare un pollice in su se questo video vi è piaciuto a lasciare un commento e da iscrivervi al canale io vi ringrazio per avermi seguito e come al solito ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto un abbraccio ciao